Per importare in nonio A20 i vecchi rilievi, è necessario esportarli in pregeo dalle vecchie versioni. Esporta il rilievo in pregeo dal menu catasto, del nonio A precedente. In nonio A20, importa il file pregeo generato precedentemente, dal menu catasto, importa pregeo. Il rilievo importato appare nella finestra di lavoro, automaticamente riscalato, in modo da vederlo tutto. Probabilmente non è dentro il foglio di lavoro. Per portarlo all'interno, scegli, dal menu opzioni, parametri grafico, clicca su autoscala e scegli la scala più adatta. Per visualizzare il foglio nella finestra, esegui zoom foglio dalla palette in alto. Per ingrandire una parte, scegli zoom finestra e traccia un rettangolo. Tutti i dati possono essere visualizzati e modificati scegliendo l'operazione corrente dalla paletta sinistra, e scegliendo introduzione dal menu dati. In questo momento stiamo vedendo i punti GPS. Possiamo visualizzare in dettaglio i dati di tutto il rilievo scegliendo visione dal menu dati. Si apre una relazione con tutti i dati inseriti o importati. Il libretto pregeo del lavoro può essere visualizzato e modificato scegliendo visione libretto dal menu catasto. Da qui il libretto può essere esportato in pregeo con esporta pregeo, dal menu archivio della finestra del libretto, o esportato in altri formati, quali PDF, o DF e testo. Per salvare il lavoro con il nuovo formato di Nonio A20, scegli salva, dal menu archivio della finestra principale. Grazie. Grazie.